Questo sportello, a differenza di altri sportelli startup, non offre solo ed esclusivamente informazioni da un punto di vista tecnico, legislativo, amministrativo, ma qui si lavora sull'aspetto motivazionale e sul metodo. Le persone arrivano qui con un'idea e noi cerchiamo di capire insieme se quest'idea può diventare un progetto, mettendo in ordine tutte le azioni necessarie per arrivare in fondo e farlo diventare un successo. Le persone che vengono qui devono essere determinate e credere fino in fondo nel loro progetto. D'altra parte anche l'aspetto metodologico è determinante e il futuro imprenditore con il mio supporto può identificare quelle che sono le azioni fondamentali per arrivare in fondo al progetto. Si lavora sulle attitudini dell'imprenditore, sulle competenze che un imprenditore deve avere, sulla comunicazione, sull'identificazione di un target e di una clientela. Per quanto riguarda l'aspetto economico finanziario, insieme ad Unione Artigiani mettiamo a disposizione una serie di opportunità come la cooperativa di garanzia, la richiesta di finanziamenti attraverso i bandi pubblici e una serie di buoni consigli per la gestione dei rapporti con le banche. Quindi iniziate a venire qui con una buona idea e il resto lo possiamo fare insieme. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.